Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Pasqua e Pasquetta bagnate, ma Pasqua e Pasquetta molto fortunate per i ristoratori della Riviera dei Palme. Qui a Grotta Mare in particolare si parla di una Pasqua che ha pochi precedenti per afflusso e qualità dei clienti. Pasqua è andata bene, nonostante il tempo che purtroppo è stato così un po' freddo. La clientela? Da fuori c'è stata una risposta dei turisti? Noi abbiamo dei turisti stanziali, che sono sempre i soliti turisti che tornano ogni anno. Essendo un locale che lavora tutto l'anno abbiamo una clientela, non turisti ma clienti annuali, anche che vengono una volta all'anno però fissi. Bilancio positivissimo? Bilancio positivo, nonostante il tempo sempre. Sì, sì, devo dire che è stata una bella Pasqua, delle giornate intense, c'è stata tanta richiesta sia per il giorno di Pasqua che Pasquetta, però insomma il tempo un po' ci ha penalizzato nel senso che non abbiamo potuto allestire all'esterno. Comunque diciamo ci sono dei buoni presupposti per la stagione estiva, sono visti tanti turisti pure. Sul fronte delle richieste culinari ovviamente pranzi e cene di pesce, c'è qualcosa di particolare quest'anno? Beh diciamo ci sono i nostri piatti classici, poi dopo qualche variante c'è sempre diciamo, un po' dipende dallo staff della cucina. Com'è andata questa Pasqua? Benissimo, fantastica, gente eccezionale, abbondante di gente, è girata gente giusta comunque. Anche oggi a Pasquetta è tutto salito? Sì, siamo bene, siamo pieni. Che menù prepari per loro? Il menù è vario, sono vari antipastini, un primo, un secondo, poi scelgono, ci sono l'insalata di menù, c'è il gamberi, i calamari, avogato, mango, c'è del merluzzo con salsa verde, basilico, zucchine, pinoli, poi c'è primi a scelta, pasta corta, pasta lunga, marinara, scampetti, gambetti, di secondo rombetti, fritturina, coda di rospo. Tutto pesce dell'Adriatico.